Studio Battaglia, le anticipazioni. La prima puntata della Fix on Rai Studio Battaglia andrà in onda stasera, 15 marzo, su Rai 1, alle 21.30. Andiamo a vedere di cosa tratta questa nuova serie tv e chi sono gli interpreti. Lunetta Savino, la settina del medico in famiglia, interpreta Marina Battaglia. È un avvocato e una donna molto forte che ha cresciuto tre figlie da sola. L'ex marito, interpretato da Massimo Ghini, l'ha lasciata molti anni prima per andare a convivere all'estero insieme alla loro ragazza alla pari. Ricordiamo che Lunetta Savino e Massimo Ghini avevano già interpretato una coppia di marito e moglie nella fiction Rai Raccontami, che però era ambientata negli anni 60. Marina è a capo di uno degli studi più importanti di Milano, lo studio battaglia e si occupa prevalentemente di diritto di famiglia. Vedremo quindi battaglie per divorzi, affidamenti dei figli, eredità e diritti civili. Lavora insieme a due delle tre figlie, almeno inizialmente. Sin dalle prime puntate dovrà fare i conti con il ritorno dell'ex marito a Milano. Anna è la figlia maggiore, si impegna molto nel suo lavoro e vorrebbe una promozione, promozione che non ottiene e così va a lavorare per la concorrenza. Dal punto di vista professionale, madre e figlia si ritroveranno quindi l'una contro l'altra. Ma chi è davvero Anna? Apparentemente è una donna molto forte, risolta, ha un marito e due figli. È una persona molto affidabile e il suo matrimonio sembra felice, ma in realtà lo è solo in apparenza. Per lei, rendersi indipendente dalla madre vuol dire anche essere finalmente se stessa, cosa vuole davvero dalla vita. Incontrerà un suo vecchio compagno di scuola con il quale dovrà lavorare e il suo matrimonio comincerà a vacillare, ma come già anticipato in precedenza, ciò che inizialmente sembrava solido, forse non lo è mai stato davvero. La secondo genita è Nina, interpretata da Miriam Dalmazio. Ricordate Margherita di Che Dio Ci Aiuti? Bene, è lei. Nina è molto diversa dalla sorella maggiore, colleziona molte storie ma non dà importanza a nessuna di esse. In realtà nasconde una profonda fragilità. Infine c'è Viola, la sorella minore. È una ragazza di 25 anni ed è l'unica delle tre figlie che non ha intrapreso una carriera legale. È una ragazza solare ma poco compresa dalla madre. Marina la ritiene senza ambizione, visto che fa la babysitter di mestiere. Ma Viola è felice così e, a differenza delle altre due sorelle, si trova in una relazione felice, con un giovane informatico con il quale si sta per sposare. Grazie. Grazie.